ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale ma soprattutto benvenuti nel sesto giorno dei challenge della pasqua estiva si è girato il cane non regge più si sta sciogliendo anche il cane ci siamo dimenticati una cosa no ci siamo dimenticati le forbici dove vai ma le vado a prendere io stai qui arrivo intrattenuti ok ho preso le forbici ok possiamo cominciare davvero allora oggi è il 13 agosto sabato hai caldo no sì hai freddo no hai voglia di un po d'inverno va bene tanto manca poco allora prima di cominciare se non vi siete iscritti iscrivetevi al canale attivate la campanella per rimanere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video soprattutto lasciate un like guarda che la telecamera è lì non è di là devi guardare lì allora oggi apriamo l'uovo della valkor i coccolosi con sorpresa sei contento sì la sorpresa è già fuori e ma ce ne sarà una anche dentro ti piace la sorpresa perché assomiglia il nostro cagnolino perché noi abbiamo un pa pa ok allora cominciamo aspetta che oddio ho un dubbio no ok tutto a posto è ottimo questo video quando le cose vengono preparate con dubizie ricominciamo no continuiamo e sta parte la lascio la lascio dai un po di caffè e vabbè sono le nove della mattina poverina allora cosa facciamo oggi apriamo le uova apriamo un ovetto di pasqua perché si sa che in prossimità del faragosto si aprono le uova di pasqua no esatto allora siamo pronti ad aprirlo sì sì allora questo lo stacco io poi dopo l'apri tu che c'è da usare le forbici qua vediamo se la mamma che riesce perché è un po duro mi sono spiacciato il dito per fortuna che c'avevo già gli occhiali guarda no malino malino tieni fallo vedere adesso che si vede bene ah l'ho visto no stavo cercando di vedere su degli occhiali a loro lo devi far vedere no lo volevo vedere anche io perché non l'ho visto gli occhiali lo sfogano lo sfogano va bene allora quindi come si chiama questo cagnolino doris ah non gli fai l'amichetto maschio lo potevi chiamarlo rex buonasera allora maschio certo che anche il collare rosso come quando lei era cucciola ti ricordi che è il collare rosso sì va bene allora direi di cominciare ad aprire l'uovo guarda qua ti facilitano c'è già il coso da aprire vai comunque non era rosso era viola no era rosso quelli quando era piccolo piccolo era viola io ho pure il coso avevano paura che venisse rubato il cioccolato vuoi corlatte dammi qua no c'è un buchino faglielo vedere faglielo vedere abbiamo trovato l'uovo con un buchino dai mettilo qua appoggia aspetta aspetta appoggialo appoggialo l'ho già staccato ah ok dai ridai un pugno che cos'è è uno di quei tipo quello che hai trovato a pasqua a pasqua avevo trovato il pulcino il pulcino e adesso ho trovato il cavallo lo apriamo così glielo facciamo vedere però non funziona non funziona l'ho attaccato da qualunque parte anche sul vetro ho provato ad attaccarlo no non funziona e in macchina hai provato ho provato anche sulla pelle vediamo a me 3 2 1 1 e mezzo tra l'altro è un agilo non è un cavallo no un cavallo no è un agilo perché a me si attacca non l'ho capita questa cosa perché da me sta attaccato ti ho scelto perché è la testa bombata si stava staccando va bene intanto che io do spettacolo su youtube assaggiamo l'uovo no ma io non ho fame mamma non lo mangio il cioccolato 5 minuti fa circa com'è? com'è? un attimo un attimo? lo devo masticare buono non sei buono comunque un cavallo non è un altro non è un altro adesso si non ho capito la rimettetelo in testa acido spero che se vi spaccano cavallo cos'è? si trasforma secondo si è attaccato meno ha attaccato a chi? è lo cioccolato promosso direi di sì sorpresa? no non ti è piaciuta? non funziona nemmeno una cosa deve fare e non la fa si però c'è anche il cagnolino ecco appunto ma secondo me sei tu che non sei capace prima ne hai incollato una qua e non funzionava no non si attacca te l'ho detto si attacca solo a me lo raccogliamo dopo un altro pezzo di cioccolato vai ce la facciamo stare sempre un attimo buono? rivalutato? va bene ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un like dove vai? ma ho capito ma dobbiamo finire il video stiamo registrando lui va chiedi scusa allora intanto che lui finisce di masticare se il video vi è piaciuto lasciate un like se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi al canale attivate la campanella per rimanere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video io vi mando un bacione e ci vediamo domani con il penultimo giorno della Pasqua Estiva Challenge ciao è con la bocca piena no è l'ora di ciao ciao non ci sia